ludovico ciao come stai bene come è andata oggi e calla ci siamo presi erboma in testa vedi quella fa parte della vela come è andata oggi più o meno o meno ma tu senti ma è vero che tu sei quello che abbiamo ripreso nel video a crotone con la barca scuffiata a 180 gradi e noi siamo venuti vicino e tu hai detto non mi voglio ritirare attenzione non mi aiutate perché non mi vuoi ritirare c'è un carattere di ferro tu cioè quando vai in mare proprio non molli mai da dove vieni palermo quanti anni sai 8 chi vuoi fare da grande non vuoi molla mai che vuoi fare da grande non mi voglio ritirare mai è una bella cosa questa da fare da grandi e se ti chiedono che può fare da grande io non mi voglio ritirare come ti chiami chloe chloe ma chloe è un nome bellissimo è proprio da velista con la po chloe è senti quanti anni hai 8 chloe come è andata oggi in acqua bene sei contenta che torni a casa contenta e quale sarà il prossimo programma velico la prossima regata c'è già un programma quindi prima si finisce la scuola come va a scuola bene meglio a scuola a vela a scuola senti allora c'hanno ieri ieri abbiamo fatto queste domande a terra tutti gli optimisti sono amici no si gioca si sta insieme in acqua c'è la regata quindi tutti avversari tu come sei amica o avversaria con i compagni in acqua amica perché diciamo la amicizia è più importante quindi sono amica ciao sei arrabbiato eh sei arrabbiato perché è andata male chi se ne importa no pensa quante cose belle ci sono pensa che bel clima che c'è allora come ti chiami da dove vieni quanti anni hai mi chiamo marco loisi e ho 12 anni e vengo da riva vengo da riva e sono arrabbiato perché ho fatto un ventesimo vabbè ma oggi poi era strano il vento andava e veniva un po così e poi perché mi hanno allunato anche l'ultima che ero terzo e quarto ah quando sei interrotta perché il vento ha girato tu eri terzo in quel momento lì questi sono proprio le cose un po che lasciano l'ammaro in bocca quindi ti intercettiamo un po nervoso però ti voglio fare la stessa domanda che abbiamo fatto nella inchiesta di ieri no a terra gli optimisti i velisti sono sempre amici si gioca si sta insieme in acqua si diventa un po rivali tu oggi già avevi un po di rivali tanto è vero che eccolo quant'è la rivalità che c'è in acqua rispetto all'amicizia che c'è a terra sei in acqua sono tutti avversari o c'è ancora amicizia mi viene da persona a persona poi c'è qualcuno che magari ti ti vira anche in prua anche se siete amici a terra e invece in acqua diventate completamente rivali bisogna pure come vedere come uno si comporta eh certo tu tendenzialmente sei uno che vira in prua se serve no però se serve no neanche neanche se serve quindi sei un proprio uno corretto fino alla fine eh sì dai vabbè tranne in team race ok ciao forza e coraggio eh che fatica mettiamo tutto a posto eh ciao come ti chiami Giovanni Giovanni quanti anni hai e da dove vieni dieci anni e vengo da Messina in Sicilia che bello senti oggi è stato bello il mare eh sì però è andato via un po troppo presto il vento mannaggia non siamo riusciti nemmeno a finire la prima prova ah tu stavi nel gruppo nel silver eh sì senti allora sai le domande che stiamo facendo no a terra amici in acqua avversari in regata tu propendi più per l'amicizia o per essere avversari per l'amicizia quindi anche in regata conta essere amici sì sì molto quindi se uno insomma si ingaggia in bova le cose che fai diciamo perché siamo amici ti faccio passare insomma insomma dipende ciao ciao grazie a te facciamo un pezzo di strada insieme come ti chiami Noemi quanti anni c'hai nove Chloe Noemi tutti i nomi proprio da veliste questi sono eh da dove vieni hai detto da casa no da Marsala da Marsala senti Noemi come è andata oggi eh più o meno eh è andata più o meno ma più più o più o meno così 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 senti lo sai che stiamo chiedendo cioè questo fatto che in acqua tutti gli optimisti sono sempre amici e poi invece in regata si diventa avversari tu sei più per l'amicizia o per essere avversari dipenda dalla persona dalla regata dal risultato dall'importanza da tanti fattori no sì però insomma anche in acqua sia le ali sia vicini sì sì una cosa che ti ricordi di uno che in acqua ti ha fatto una cosa un po' da un po' troppo da avversario quando mi dicono parole o mi sbattono a quel punto dicevo è qui allora eh vabbè ciao ciao Noemi vorrei entrare a casa ciao buongiorno come ti chiami Zoe Zoe da dove vieni Napoli Zoe Chloe Noemi tutti i nomi bellissimi da velista sei napoletana quindi senti Zoe lo sai che la domanda di questa tappa è l'amicizia a terra e la rivalità in acqua in regata no cioè si cambia così tanto amici a terra e poi nemici in acqua o a rivali forti avversari tu sei più per l'amicizia o per la rivalità e l'amicizia quindi in acqua sei sempre corretta sempre amica fai sempre passare tutti no cioè amici sì però sì comunque un po' di competizione c'è cosa ti piace della vela Zoe il mare mi piace molto il mare stare da sola in mare ti piace ciao Zoe ciao come ti chiami Simona e vieni da Bari Simona allora la domanda del giorno è amici a terra quando si gioca e un po' rivali avversari in acqua quando si regata tra le due cose tu quale preferisci cioè in acqua sei molto avversaria con gli avversari o sei anche un po' amica allora durante la regata no però quando finisce la regata sì quindi l'amicizia resta confinata fuori dalla regata ma quando c'è la regata si sospende l'amicizia sì e subentra cosa è che bisogna c'è molta competizione e poi bisogna concentrarsi molto quindi le amicizie cioè bisogna bisogna concentrarsi più sulla regata che sugli amici si parcheggia l'amicizia e si pensa alla regata brava Simona ciao bella ciao ciao come ti chiami Pietro Pietro vieni da dove Napoli da Napoli eh oggi è andata bene te l'aspettavi sto vento tutto ok sì sì tutto è bene ti piace più vento forte o vento leggero? vento leggero e quindi oggi perfetto Arina è il tuo lo sai che la domanda del giorno è siamo amici a terra quando giochiamo e siamo un po' avversari e rivali in acqua quando regatiamo tu lo fai il suo ragionamento? eh certo certo sì cioè quando sei in regata l'amicizia? eh praticamente non c'è ah non c'è più però cioè gli amici più cari insomma non si fanno non si fanno delle cose che non si dovrebbero fare carino bravo quindi insomma rivali ma quelli più intimi alla fine l'importante è non fare scorrettezze vabbè sì certo avversari sì ma senza scorrettezze certo certo ovviamente perché se no non c'è lo spirito quanti anni hai? dieci senti chi vuoi fare da grande? eh l'allenatore di vela l'allenatore di vela no il velista? no ti vedo bene ti vedo molto bene bravo ciao 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 come ti chiami? Lorenzo Lorenzo vieni da? Catania senti Lorenzo oggi giornatina sei soddisfatto? eh sì ero prima avevo pure tagliato ma l'hanno annullata vabbè però adesso questo primo che te l'hanno annullato però tu dentro di te sai che eri primo per te resta in fondo no? sono soddisfatto eh bravo sono soddisfatto senti allora la domanda del giorno qui riguarda questo gli optimisti sono molto amici a terra giocano con gli amici le amiche però poi in acqua in regata è amicizia un attimino no? cioè si diventa un po' avversari tu in regata sei molto agonistico allora eh tra una prova all'altra si può anche parlare ma durante la prova siamo tutti avversari cioè però poi appena finisci la prova appena si torna a terra siamo tutti amici scherziamo parliamo ma in acqua avversari cioè quindi uno si dimentica quando è in acqua si dimentica che è amico a terra e quando è a terra si dimentica di tutte le cose da avversari che si sono fatti in acqua più o meno più o meno sì ciao ciao ah che fatica a smontare queste vele madonna mia quanto ci metti? eh cinque minuti ah vabbè poco allora senti come ti chiami? Giulia vieni da? Civitanova Marche e hai? quanti anni hai? eh undici senti Giulia oggi è andata bene? sei contenta? la giornata? ce l'hanno annullata annullata come stavi messa tu quando l'hanno annullata? male tipo 25 male metà classifica sì senti la domanda del giorno qui è l'amicizia a terra e la rivalità in regata no? cioè tu in regata continui ad essere amica delle tue amiche e amici oppure in regata basta si è avversari solo no da quando danno la prima partenza per me sono tutti avversari poi quando si torna a terra dopo l'ultima partenza siamo amici e ci aiutiamo l'idea è chiare sì che vuoi fare da grande? l'attrice hai capito brava ti aspettiamo veniamo a vedere il cinema ciao 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 Grazie per la visione!